Intendiamo operare cercando di seguire un criterio, il primo è di agevolare i soggetti più deboli, le famiglie, le famiglie numerose, il secondo è puntare ai artigiani, artigiani e piccoli imprese, perché lì dobbiamo dare un segnale, purtroppo il Comune da solo non ci riesce, ci vuole una politica fiscale nazionale che ci aiuti, però la cosa che ci interessa è che lavoreremo in senso progressivo, cioè chi ha più paga di più, sposteremo i capannoni industriali dall'IMU alla TAS in modo che saranno deducibili e cercheremo di fare in modo che siano modulati sulla base della capacità reale di impiego. E' evidente che questo aspetto qui è collegato a quanto ammonta il fondo di trasferimento del governo nazionale e a quanta capacità abbiamo noi di ridurre la spesa in alcuni ambiti, che sono la riduzione della spesa del personale, che sono la rimulazione o la chiusura di alcuni mutui, che sono la ricontrattazione di alcune partite dalle bollette energetiche fino ad altro, cioè dobbiamo continuare quel tipo di lavoro, siamo riusciti adesso a risparmiare 250 mila Euro su una bolletta energetica di 2 milioni e mezzo, con tetti fotovoltaici, acquisti verti, insomma via discorrendo. Dobbiamo continuare a seguire questa strada. Tutto quello che recupereremo anche dalla lotta all'evasione sarà indirizzato verso l'agevolazione delle giovani imprese. Grazie. 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 Grazie.